Ben trovati a Qui Regione, le notizie direttamente dal Consiglio regionale. Si torna a parlare di invasi anche in Consiglio, in Toscana il caldo e la carenza di pioggia non consentono agli invasi di recuperare il loro carico ottimale. Sul dibattito sono stati poi approvati i progetti per la realizzazione di nuovi invasi. Le temperature più alte della media e la carenza di pioggia fanno sì che la Toscana dopo un'estate torride e siccitosa sia ancora lontana dal ritrovare un carico ottimale per i suoi invasi. Lo ha confermato, dati alla mano, l'assessore regionale all'ambiente Monia Monni, che sul tema dell'emergenza idrica ha tenuto una comunicazione al Consiglio regionale della Toscana. E proprio la Regione, con i consorsi di bonifica e le autorità di distretto, sta mettendo a punto un pacchetto di proposte progettuali. A inizio ottobre la Giunta ha approvato oltre 100 schede, interventi integrati di aria e relativi al servizio idrico integrato. Nutrito il dibattito in seno all'Assemblea Toscana sulla comunicazione di Giunta, ma sentiamo su questo argomento il Presidente Eugenio Gianni. Faremo una legge specifica proprio per favorire la costruzione di quello che devono essere i serbatoi che, contenendo l'acqua, ci consentono di affrontare i periodi di siccità. Del resto i cambiamenti climatici sono un'evidenza così forte nel nostro tempo. Io oggi ho relazionato proprio sul fatto che abbiamo ottenuto 4 milioni e 2 dal Governo nella dichiarazione di Stato di siccità all'inizio di agosto. Nelle settimane successive, in realtà, quelle che sono state le esigenze che abbiamo documentato e che portarono anche in Toscana lo Stato di calamità da un punto di vista regionale e poi la richiesta dello Stato di emergenza a livello nazionale hanno trovato soddisfazione. Sulla stessa lunghezza d'onda, Stefano Scaramelli di Italia Viva. Bene le risorse arrivate dal Governo precedente, da Draghi, per cercare di risolvere in termini infrastrutturali un gap che esiste. Serve fare degli invasi, serve ovviamente fare degli interventi, serve fare i valori pubblici e credo che sia positivo il fatto che in alcuni casi si sia già avviata la fase di progettazione rispetto alla realizzazione di alcuni invasi che nei territori possono dare delle risposte, ma nel contempo serve anche finanziare interventi di natura privata a favore, per esempio, delle aziende agricole. Il consigliere di Fratelli d'Italia, Alessandro Capecchi, ha parlato di dati che non fanno stare tranquilli. Finalmente siamo riusciti a parlare dell'emergenza idrica che sembra alle spalle ma in realtà incombe già sul 2023. Infatti i livelli di accumulo che l'autorità idrica toscana ci dice sono stati raggiunti ad oggi e si raggiungeranno nella prossima primavera sono molto bassi e quindi rischiamo anche per il 2023 una situazione difficile. La regione toscana chiese l'emergenza nazionale che è stata dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo di settembre. Sono arrivati 4,3 milioni di euro che in realtà però andranno per opere più o meno ordinarie, dalle autobotti al miglioramento e al recupero di alcuni pozzi di attingimento. Senza attaccare invece alcune questioni fondamentali nell'approvvigionamento idrico e anche a scopo agricolo e industriale dell'acqua. Ovvero sia da una parte lottare agli sprechi, alla perdita che in Toscana monta a 178 milioni di metri cubi all'anno circa. Il recupero ad oggi è arrivato a 38 milioni di queste perdite. Dall'altra parte irrobustire pesantemente il sistema di invasi. Il consigliere Marco Nicolai del PD ha evidenziato come la siccità sia la declinazione di una situazione climatica che ha impatti rilevanti su tutti gli aspetti della nostra vita, anche sulla sicurezza sociale. La questione della risorsa acqua è una questione di sicurezza per la nostra società e il nostro tessuto economico e quindi come tale deve essere un tema prioritario. Oggi con la comunicazione della Giunta e il dibattito che ne è seguito innanzitutto abbiamo potuto verificare come al netto delle enunciazioni sono già state immesse in campo una serie di interventi. Il finanziamento che il governo Draghi ha dato alla Toscana per la gestione dell'emergenza è già in fase di attuazione per sbloccare tutta una serie di opere. Infine le parole del capogruppo di Lega, Movimento 5 Stelle e Toscana Domani, Elena Meini, Irene Galletti ed Elisa Tozzi che manifestano una visione tutt'altro che ottimistica ma soprattutto critica nei confronti di Gianni. Siamo a novembre, finalmente la Giunta regionale e la maggioranza guida PD ha capito che è un tema che va attenzionato e finalmente oggi ci presenta, dopo aver chiesto a luglio, quindi diversi mesi dopo, lo stato di emergenza ci presenta quelle che sono state le attività svolte in emergenza nel periodo estivo e ci dice che terrà e attenzionerà il tema dell'emergenza idrica con la realizzazione, purtroppo non sappiamo ancora quando i tempi saranno lunghi, di bacini di accumulo. I dati parlano chiaro, di 4 milioni e 300 mila euro che il Ministero ha destinato alla Toscana per la gestione dell'emergenza idrica metà sono andati a spostare autobotti di acqua da una parte all'altra della Toscana con tutte le considerazioni che possono essere fatti, l'altra metà sono andate a interventi di natura ordinaria e questo cosa significa? Che la Regione, non da questa legislatura ma da quelle precedenti, non ha capacità di programmazione tale da poter prevedere questi interventi ordinari nell'attività e nel bilancio di tutti gli anni e questo ci ha portato oggi a una grave emergenza idrica, non soltanto il cambiamento climatico. Continuiamo a parlare di opere importanti che però sono opere che ormai risalgono nei decenni, si parla sempre di bilancino ecco, il modello bilancino dovrebbe essere un modello che oggi persegue tutta una serie di obiettivi di investimento per la Toscana che però non vediamo. Vediamo invece che si continua a parlare di situazioni contingenti, investimenti in autobotti nel 2022 francamente questo è inaccettabile. Per non parlare poi delle perdite del servizio idrico in realtà noi abbiamo scelto decenni fa di gestire, di far gestire la risorsa idrica a delle società partecipate oggi il tema ritorna all'odere del giorno con le multiutiliti questo modello di gestione ha le sue criticità perché di fatto gli investimenti non sono stati fatti nel modo adeguato. Sanità all'attenzione della Regione Toscana è sustata sulla Maremma nei giorni scorsi la terza commissione del Consiglio regionale ha iniziato da Grosseto poi si è spostata a Massa Marittima il tour per monitorare le strutture ospedaliere e di incontrare gli operatori sanitari della zona. Il check-up della sanità toscana parte proprio dal Maremma la terza commissione regionale con i consiglieri quasi al completo ha iniziato il giro delle visite negli ospedali della Regione. Prima tappa al Misericordia di Grosseto poi al Sant'Andrea di Massa Marittima una visita lunga e approfondita tra corridoi e riparti. Abbiamo visto anche quelli che sono i prossimi progetti quindi il nuovo acceleratore lineare per cui diciamo che Grosseto pian piano sta diventando veramente un hub provinciale perché poi questo deve essere l'ospedale di riferimento della nostra provincia. Grosseto e poi sarà Massa Marittima sicuramente sono posti periferici rispetto a quella che è la regione toscana e i suoi hub universitari. Comunque a partire da certe realtà abbiamo sicuramente persone molto importanti. La direzione dell'ASL Toscana Sud-Est ha presentato alla commissione anche il piano di adeguamento strutturale dei locali che andranno ad ospitare il nuovo acceleratore nucleare. Tra i fuori programma invece la visita al pronto soccorso percorrendo l'iter dei codici rossi e via via le altre emergenze. In chiusura la commissione ha tenuto un incontro nell'auditorium della nuova ala del Misericordia con i professionisti ospedalieri e del territorio alla presenza anche di sindacati e ordini professionali. La realtà sanitaria di Grosseto ha sicuramente dei punti di forza, un importante pronto soccorso, importante chirurgia, quindi sicuramente la realtà sanitaria di Grosseto è importante. È chiaro che ci sono anche delle difficoltà legate al fatto che è un territorio esteso con una popolazione che cambia nel corso dell'anno e con una densità di popolazione che è diversamente rappresentata sul territorio. Qui a Grosseto si confermano due elementi, l'importanza degli investimenti dove si è investito in strutture, in tecnologia, vediamo la differenza, abbiamo visto il laboratorio, abbiamo visto il padiglione nuovo, sono assolutamente fondamentali e poi l'importanza dei professionisti dove ci sono professionisti validi, capaci, motivati che riescano a tirare anche ulteriori professionisti sul territorio, noi abbiamo una sanità d'eccellenza. La Commissione si è infine spostata all'ospedale Sant'Andrea di Massa Marittima dove è stato visitato il poliambulatorio al primo piano inaugurato a marzo 2021, quindi il pronto soccorso reparto che qui presenta delle difficoltà per quanto riguarda l'organizzazione degli spazi e la carenza di medici e infermieri. La roadmap della Commissione prevede altre tappe a Cisanello, Pisa il 29 novembre e poi il 13 dicembre all'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze. In Toscana continua a far discutere la legge recentemente aggiornata per quanto riguarda l'uso di caminetti e stufe e anche a legna e a pellet. La piana lucchese subisce divieti limitazioni, fratelli d'Italia si fa interprete dei disagi che ne derivano per cittadini ed aziende. Di recente il Consiglio regionale per quelle zone dove non sono rispettati alcuni parametri limite per quanto riguarda le polveri di particolato nell'aria, cioè si registra un inquinamento significativo da PM10, ha stabilito il divieto di utilizzo di stufe e caminetti alimentati a biomasse, legno e pellet. Questo in conseguenza di una sentenza della Corte di Giustizia europea del novembre 2020 che ha condannato l'Italia per la qualità dell'aria. Per questo motivo la regione toscana si è subito mossa per darsi regole più stringenti. Ovviamente vengono escluse le abitazioni nelle quali la biomassa sia la sola fonte di riscaldamento e poi quelle poste oltre i 200 metri sul livello del mare. Proprio sui disagi vissuti nella piana lucchese è intervenuto a margine del Consiglio regionale il consigliere di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi. Quella che era una richiesta sostanzialmente di rivolgersi in conferenza Stato-Regioni per ottenere un'aderoga a questo divieto dell'accensione dei caminetti per la quale siamo stati rimproverati come al solito, con il solito schema del rimprovero che si fa ai ragazzi, oggi invece si è dimostrata una pratica realtà. L'assessore Moni si è rivolto al nuovo Ministro dell'Ambiente in questo senso. Era esattamente quello che chiedevamo anche noi ma non solo. Chiedevamo anche di andare un pochino più sul merito della realtà. Noi siamo assaliti dal senso della realtà, siamo all'inizio di novembre, il divieto è già in vigore, ci sono famiglie che non riescono e anche imprese chiaramente che di fronte al caro energia non sarà come affrontare l'inverno, dobbiamo assolutamente arrivare a un'aderoga, a una sospensione di questo divieto che non ha nei numeri per alto perché su questo argomento torneremo ragion d'essere. La norma, a dire il vero, è accompagnata da misure di incentivazione per la sostituzione dei riscaldamenti a legna e pellet con impianti alternativi a basse emissioni. Ma i costi dell'energia in questo momento non incoraggiano i cittadini a cambiare le fonti domestiche di calore. Fantozzi però insiste sui numeri. È chiaro che il PM10 può derivare e deriva sicuramente anche da questo ma non ci sono i numeri su quale discutere. Dopo dieci anni sostanzialmente anche dall'avvio di politiche dove la regione stenta a dirci che cosa ha combinato perché i numeri, i dati, le statistiche non ci sono in questo senso beh ci sarebbe da capire se vogliamo arrivare anche in questa direzione a voler investire. Il gonfalone d'argento dalla regione toscana al professor Francesco Menichetti l'ex primario di malattie infettive dell'azienda ospedaliera Pisana ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dal presidente del Consiglio regionale Mazzeo per il ruolo significativo che ha avuto durante la pandemia nel quadrivare le istituzioni. Lo abbiamo sentito. Gonfalone d'argento all'ex direttore dell'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale Cisanello appisa il professor Francesco Menichetti. La più alta onoreficenza dell'Assemblea toscana come deliberato dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale è stata conferita all'infettivologo Pisano per il ruolo significativo che ha avuto durante la pandemia nel coadiuvare le istituzioni con pareri e indicazioni di particolare rilievo scientifico. Innanzitutto ho un profondo orgoglio perché questo è un premio che va a riconoscere un impegno ultraventennale che io ho speso presso l'ospedale di Pisa a favore della sanità regionale toscana e assieme all'orgoglio e alla soddisfazione ha anche una riconoscenza doverosa, sentita, autentica nei confronti dell'istituzione, del Consiglio regionale, del suo presidente il presidente Mazzeo che ha voluto pensare a me penso anche per il complesso di una lunga attività ma anche questi ultimi anni della pandemia di Covid ci hanno visto spesso insieme hanno visto me insieme con le istituzioni interagire per cercare di ottenere risultati che poi si sono dimostrati tangibili e positivi. Proprio in relazione al Covid Menichetti ha condotto studi su plasma e anticorpi monoclonali studia ora il Long Covid si dedica all'assistenza dei pazienti colpiti da questa patologia assai complessa e ancora poco conosciuta ma qual è la situazione coronavirus in questo momento in Italia? La situazione è più favorevole per due buoni motivi uno che abbiamo un paese largamente vaccinato siamo tra i più vaccinati d'Europa e del mondo e questa è una nota di merito quindi abbiamo una popolazione largamente protetta il secondo motivo è invece legato a queste continue mutazioni virali che fortunatamente non hanno virato al peggio queste sottovarianti della Omicron sono ancora tutto sommato meno patogene di quello che è stato il virus di Wuhan originale il virus Delta che provocava quelle gravi polmonite Menichetti però si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe A tale proposito permettetemi di dire che mi pare forse azzardato liquidare quell'atteggiamento di prudenza e di attenzione in particolare all'interno degli ospedali e nei confronti dei sanitari ecco io avrei continuato a mantenere l'impegno vaccinale noi abbiamo come dire anche l'onere della testimonianza e i pazienti hanno diritto di essere assistiti da medici che credono nei vaccini che fanno i vaccini e che li mettono al riparo da rischio Il gonfalone ha concluso Mazzeo è anche un riconoscimento ai tanti professionisti della sanità toscana che sono stati impegnati in prima linea durante i tremendi mesi del covid Sono orgoglioso di poter conferire il gonfalone d'argento il massimo riconoscimento del consiglio regionale al professor Menichetti questo è un premio alle sue qualità scientifiche alle sue qualità mediche alla sua capacità di sapere essere vicino al paziente facendo ricerca di altissimo profilo uno di quei professionisti che quando vanno in pensione mancano e la sua mancanza si sente al sistema sanitario sono orgoglioso di farlo qui oggi in consiglio regionale anche perché questo riconoscimento è anche un riconoscimento che noi vogliamo dare oltre che a lui ai tanti professionisti della sanità in questo modo che sono stati impegnati in prima linea durante i tremendi mesi del covid l'attività di cura, di assistenza ma anche l'attività di ricerca ne hanno fatto un punto di riferimento a livello toscano, a livello nazionale a livello internazionale e queste sono le motivazioni che ci portano a conferire questo riconoscimento al professor Menichetti e poi le storie belle della Toscana Giulia Meoni e il suo Hammer premiati in consiglio regionale Giulia Meoni e il suo cane Hammer mostrano il volto bello della Toscana con queste parole il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo ha consegnato una targa del consiglio alla cortonese Giulia Meoni esempio di passione sportiva unita all'amore per gli animali così è inciso sulla targa innanzitutto premiare i giovani è sempre bello premiare il sorriso di Giulia Meoni ancora di più sapere che c'è esiste una simbiosi così forte tra una ragazza così giovane e Hammer è qualcosa di stupendo io mi auguro che questo sia solo l'inizio è un modo per dire forza Giulia vai avanti e noi speriamo di rivederla campionessa del mondo qui in Toscana la giovane promessa Giulia Meoni 13 anni e Hammer pastori delle isole Shetland si sono classificati terzi ai campionati mondiali di agility dog nel luglio scorso a proporre il riconoscimento deliberato dall'ufficio di presidenza del consiglio era stato il vicepresidente dell'assemblea toscana Marco Casucci sono contento di avere promosso il riconoscimento di questa bellissima targa per Giulia Meoni del territorio di Cortona il mio territorio per un sport poco conosciuto ma che di fatto è il principale sport cinofilo gli sport cosiddetti minori che minori non sono abbiamo visto che bel momento abbiamo vissuto in consiglio regionale meritano di essere ulteriormente conosciuti e apprezzati dal grande pubblico tutti ci auguriamo che Giulia Meoni possa diventare campione del mondo della sua disciplina quello che mi sento però di augurarle ancora di più dal cuore e di rimanere quella che è dimostra il rapporto di fiducia di complicità la simbiosi con il suo cagnolino Hammer ed è questo il bello della vita Ed è tutto qui Regione vi dà appuntamento al prossimo notiziario grazie per averci seguito buon proseguimento di giornata a tutti voi grazie a tutti